Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Retro Dylan, dove parlo dei numeri di Dylan Dog, non quelli usciti mensilmente in edicola, ma quelli che sono usciti un po' di tempo fa. Oggi voglio parlare con voi di un numero che non è vecchissimo, è uscito mi sembra nel 2004, ma ne voglio parlare con voi per assonanza a una storia che abbiamo letto in questi giorni in edicola. Come avreste potuto intuire dal mio outfit e dalla mia location, voglio parlare con voi del numero 212, Necropolis. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che si sentono rinchiusi a Necropolis e di commentare qui sotto su quello che viene parso di questo numero, se lo avete letto, e anche di questo video. Questo numero, Necropolis, oltre ad essere uscito in edicola, uscì anche in contemporanea come, chiamiamolo audiobook, comunque è uscito su Radio 2 ed è stato raccontato, è stato interpretato da degli attori, dai doppiatori, su Radio 2. Vi metto qua sotto in descrizione, diciamo, il link diretto per poter ascoltare Necropolis. È molto immersiva l'ascolto di questo numero, devo dire che rispetto alle altre volte quando mi devo appunto rileggere il numero per farne la recensione, qua mi ha aiutato molto anche questo supporto auditivo. L'ho comunque riletto, ma in alcuni punti mi sono lasciato trasportare appunto da quello che sentivo in radio. Io ovviamente parlo di radio via internet, quindi qua sotto trovate il link al sito internet di Radio 2. Dylan Dog, Necropolis, ne voglio parlare, come ho detto all'inizio, perché ha ricordato, mi ha ricordato, un numero che è uscito recentemente, che è il numero 416, dal titolo Il Detenuto di Uzeo e Lauria. Numero che ha fatto molto parlare di sé per il forte messaggio, per i disegni assolutamente non canonici per la serie regolare di Dylan Dog, quindi è piaciuto a tantissime persone, alcune persone hanno storto il naso proprio per i disegni perché non si sono trovate nella loro cup of tea, ma l'importante per quanto riguarda Dylan Dog è che faccia eco a livello mediatico, che faccia parlare di sé per il messaggio che vuole dare. Però appunto mi ha ricordato anche un numero molto simile, che è questo di cui parlo adesso, che è Necropolis. Perché? Perché in entrambi i numeri, per una premessa iniziale abbastanza debole, diciamo che non ha importanza, il protagonista viene portato in quello che è fondamentalmente una prigione dove il detenuto non parla con nessuno, viene privato un po' anche della sua umanità in un certo senso. In Necropolis, come potete appunto vedere da come sono conciato, è tutto estremamente bianco, mentre nel detenuto è tutto estremamente nero. Sono graficamente uno l'antitesi dell'altro. L'incip iniziale può far ricordare i rispettivi numeri, ma devo dire che il messaggio che si vuole dare in Necropolis non ha nulla a che vedere con il messaggio che si dà nel detenuto. Nel detenuto si parla proprio di fine pena mai, si parla appunto dell'umanizzazione e della disumanizzazione dei detenuti, del rispetto che i detenuti devono avere. Va bene, ho fatto un video apposta, quindi che ve ne sto a parlare ancora? Ve lo metto qua in descrizione, ve lo metto qua nelle schede. Mentre in Necropolis il messaggio, almeno io l'ho visto, un po' diverso. Premesso che mi ha ricordato molto il film di Netflix uscito di recente, Il Buco, in cui il detenuto deve per forza mangiare in un determinato lasso di tempo. Se non mangia tutto in quel determinato lasso di tempo, viene corretto, viene punito. Nel film Il Buco la temperatura si alzava tantissimo, si abbassava tantissimo, qui invece il pavimento di metallo viene elettrificato. E tutti i prigionieri di questa Necropolis hanno dei calzari saldati nei piedi e sono di metallo, quindi prendono ovviamente la scossa. Mi ha ricordato molto questo, quindi se non avete visto Il Buco, ve lo metto qua sotto in descrizione, così ve lo potete anche guardare. È fortino, vi avviso. Dicevo però, il messaggio non ha nulla a che fare con la prigionia di per sé. Anche se vengono date alcune frasi che fanno pensare, quando Dylan dice e poi saremmo noi mostri, saremmo noi criminali, non è criminale il modo in cui veniamo tenuti qua dentro, e quello sì, è un riferimento anche alle carceri. Ma principalmente Necropolis parla di conformismo, di persone che, se non si conformano alla società odierna, vengono considerate diverse, vengono considerate criminali in questo caso e vengono messe in strutture correttive. La struttura correttiva è una metafora, potrebbe essere benissimo la scuola, che ci fa crescere, non per sviluppare le nostre qualità individuali, ma ci fa uscire, diciamo, con un indottrinamento uguale per tutti. I detenuti a Necropolis vengono, appunto, non dico puniti, ma corretti, vengono corretti se non collaborano, se non si mangia in quel lasso di tempo la colazione, si viene corretti. Quando si inizia a fare i bravi, quando ci si inizia a comportarsi bene, Necropolis ti viene incontro. È proprio una metafora di come nella società, se ci si conforma, si va avanti in un certo contesto, mentre se si vuole andare di testa propria si viene spinti indietro, non si viene accettati, si viene stigmatizzati. Ovviamente al giorno d'oggi, per chi è informatizzato, si sa che quelli un pochino più emarginati e stigmatizzati sono quelli che non lo sono e che credono di avere la verità assoluta in mano perché si informano su dei siti internet che fondamentalmente elargiscono bufale. Quindi se uno di voi sta ascoltando, no, non sto parlando di voi, non avete ragione. Voi non avete ragione, voi dovreste stare davvero a Necropolis. Parlo in senso metaforico dell'essere umano. La parte in cui Dylan Dogg parla con altri detenuti, la parte in cui Dylan Dogg scala al punto la vetta per poter parlare con altri detenuti del suo stesso rango di argomenti prestabiliti da Necropolis è davvero impressionante. Mi ha fatto ricordare come i mass media, in un certo senso, ci inculcano i dialoghi superficiali che sempre attanagliano gli argomenti banali che si fanno con persone altrettanto banali. Faccio un esempio, appunto, ovviamente io sono un nerd, se vedo un altro nerd parlo di cose che mi appassionano, parlo di cose che mi interessano. Ma quando si parla con persone che si conoscono poco, che non hanno i tuoi stessi gusti, io personalmente sono uno stronzo e sono introverso, quindi non parlo proprio e mi faccio i cazzi miei. Ma c'è gente che si sente costretta a parlare del nulla, del tempo. In particolar modo i mass media ci inculcano questi argomenti, la politica, la cronaca, lo sport, ovviamente il calcio e tutti gli altri sport, e il gossip, spesso intersecati tra loro, quindi il gossip sulla cronaca, il gossip sullo sport, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci viene da pensare ad altri argomenti, perché veniamo martellati, bombardati, sempre con questi argomenti. Un po' come quando si è su Facebook e uno fa una, non so, una battuta e sotto nei commenti c'è il solito boomer che rilancia con una battuta satirica alla striscia della notizia sulla politica. Basta! Cioè non sempre con quegli argomenti. È interessante a livello grafico il cambio di fotografia in Necropolis. A un certo punto Dylan si ribella. Quando Dylan accetta le regole di Necropolis, all'inizio è tutto bianco. Quando Dylan non ci sta più e si ribella, fa saltare la corrente, è tutto buio. È proprio un cambionetto grafico per manifestare, per comunicare il cambio di Dylan all'interno di sé. Dylan non ci sta più a questo bianco, non ci sta più a queste regole di Necropolis. Peccato che quando Dylan fa saltare la corrente, è l'unico non criminale lì dentro. Tutti gli altri sono comunque delle persone che meritano di stare lì dentro. Magari non meritano di stare lì dentro in quel modo, ma sono comunque persone molto pericolose. Dylan ha fondamentalmente liberato le gabbie a serial killer, avvelenatori di bambini, mafiosi che appunto fanno le scarpe di cemento, gente che si diverte a torturare altra gente, e dulcis in fundo Arcangelo. Arcangelo è il detenuto peggiore di tutti. Uccide solo perché viene irritato dall'altra persona e si chiama Arcangelo probabilmente perché è bello come un angelo, tant'è che Dylan scopre che Arcangelo altro non è che il detenuto 22, ovvero la bellissima ragazza di cui si è innamorato anche questo mese in questa storia. Questo plot twist dura pochissimo perché comunque Arcangelo viene fatto fuori da un altro detenuto e questo plot twist nel plot twist spinge Dylan, spinge Dylan che come sempre è mosso dall'amore, ad arrabbiarsi al punto da uccidere quasi di rabbia un altro detenuto. E questo è quello che voleva realmente Necropolis, ovvero dimostrare che anche una persona che si è sempre comportata bene come Dylan Dogg, riesce a essere trasformato in un criminale se mescolato ad altri criminali. Se spinto al limite può diventare un assassino, che più o meno è la teoria che spiegava il Joker di Heath Ledger nel Cavaliero Oscuro. Vi metto sempre il link in descrizione per vedervi il film in Blu-ray. È una teoria molto interessante, ma mentre il Joker ci teneva a dimostrarla per far vedere che era normale che lui fosse così fuori di testa, qua invece Necropolis ci tiene a dimostrarla proprio per poter avere una scusa per far esistere Necropolis stessa, ovvero dice sì noi siamo una prigione orrenda, siamo molto rigidi, ma siamo costretti a farlo perché altrimenti i criminali con la loro indole contagierebbero le persone normali. Dylan è stata la cavia per attivare tutto e per tutto, per avallare il progetto Necropolis. La cosa bella di questo numero appunto è dal punto di vista grafico che si è davvero privati di tutto, è tutto bianco e poi alla fine è anche tutto nero, ma non ci sono gli ambienti caldi, non c'è la storia classica che c'è in un Dylan Dog qualunque. Siamo veramente in un'opera che ci toglie l'aria, ci fa sentire soffocati ed è questo il bello di Necropolis. Devo dire che leggendo il fumetto mi sembra una storia che aveva bisogno di un paio di pagine in più, 98 pagine sembrano poche, infatti la storia nell'ultima pagina sembra un pochino tagliata al punto che vi dirò, preferisco quasi di più la versione radiofonica che con una frase finale mi fa piacere un po' di più la storia, mentre nel fumetto sembra proprio che avessero finito le pagine. È un peccato perché potevano benissimo continuare o sfruttare quell'ultima pagina in un altro modo per darci un ulteriore plot twist, un'ulteriore chiave di lettura, farci capire che magari Dylan in un certo senso non se n'era mai andato, ma fa niente. Si è concluso comunque l'albo con Dylan Dog che torna a casa e se vogliamo parlare di storie troncate, da quel punto di vista preferisco il 416 che finisce con un plot twist sensazionale, ovvero con Dylan che effettivamente pare avesse commesso un reato. Qua invece in un certo senso era ancora un'epoca in cui si voleva chiudere il cerchio, diciamo, si sentiva il bisogno di chiudere la storia in un modo classico. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se la conoscete, se non la conoscevate, se la ascoltate per la prima volta qua sotto su Radio 2 o se l'avevate già ascoltata o appunto se l'avete letta, se la sapete a memoria. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e non mi riferisco solo al video ma a tutti i video che guardate, vi ringrazio tantissimo e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.